Ma buongiorno! Buongiorno sto cazzo! Nooo, ma perché? Perché da gi' affanculo! No, oggi un po' di le cose che abbiamo fatto insieme stamattina, eh? Si, si, ma... Si è stato bene? Si è stato bene o no? Sono stato bene si! Ma che abbiamo noleggiato per domani? Pulmino! Climatizzato al top! Sto mattina passiamo col pulmino, calme calme perché... La fretta non serve! Adelio guida calmo! Ragazzi domani sarà una giornata pazzesca! Lo aspettiamo tutti, eh? Adelio via quel passo e mantiene sempre quel passo! Passo mantenuto! Adelio guida in quel modo! Eh, lui sta davanti! Domani ne vedrete delle belle ragazzi! E chi ci sarà ne vedrà ancora di più, vero? E beh... Questa no che è? Eh? Era la scuola dove andavo io, eh? Le medie! E beh... E chi mi veniva a prendere? Io! Eh? Che veniva a prendere quando uscivi e ti ci portavo la mattina! Che spettacolo! Sempre insieme stavamo! Sempre! Qua ci stanno due signori che anche oggi salteranno la dieta! Uno eccolo! Eccolo! Ma soprattutto eccolo in altro! Io la dieta nulla santo che nulla può! Stavolta ero fregati! Pasta fredda! Aia! Pasta fredda però! Guarda mamma che gonna! Eeeh! Si sboccia anche oggi nonna maria eh! Qualcuno assombrato! Allora oggi non è Pasqua! Ma c'è qualcuno che sta celebrando Pasqua! C'è qualcuno che si fa i cazzi su e non senti i discorsi degli altri! Vai lì! Oh! E' giù! E' il capocollo eh! Capocollo e torta dei Pasqua! E via! Guarda! Vai lì! Vai lì!